Senti, canti, pombra, via the cards! Questi non sono i piedi, non sono i piedi! e mi girano a letto e non dormo, mi girano a letto e non dormo e chiamate il dottore e ci sono andato il dottore mi dice dottore io la notte non posso dormire più mi girano a letto e non dormo mi girano a letto e non dormo e dottore lo sai che mi ha detto ma se lei non sta a fermo come va dottore si vuole una vacanza sai cosa dobbiamo all'america all'america e tutto ti frega all'america veramente ti frega tu vai in america non è come a patatraccio che uno sale su pullman fai etichetto su pullman no all'america no tu vai all'aeroporto entra là e fai i shiki fai i shiki e non ti puoi portare niente dietro manco una lombata per se guarda e che pianto con una cosa entra la polizia a sireni spietati e allora dire america america un bello vacanza per amere ma c'è un'altra volta per fare ma c'è un'altra volta per fare ma c'è un'altra volta per fare guarda ragazzi sordini mi ha portato ma io siccome ho un piccolo problema una cosa è vero una cosa è vero subito non glielo dico più va bene, faccio il terreno ora si deve sedere subito facciamo la vita vabbè, io faccio vincenzio, ti devo calmare organizziamoci con amici nostri all'America un viaggio all'America è differente tu sai come si chiama il ristorante all'America? fatte fuci perché tu prendi un burgo ci metti un po' di cicicciato eh, metti il dovere e come si chiama fatte fuci bravo, bravo bravo vabbiamo vabbè, vabbè vabbè, vabbè 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 ma è arrivata una cosa 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 ma che cosa ti è fatto da qua? ma si attenzio ma che ha cambiato profumo? ma che l'opera? cacarello purò No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E' stata una partita quinta qua, è stato un po' quinto qua, quindi, come un notario, quindi, ma io ho vinto e poi ho solito. No, questa volta va a fare una partita. Questi sono tutti i soldi che mi avete rubato giocando, questi sono tutti i soldi miei! Signora, ce l'avevo detto che il primo po' ce lo scassavo io a suo marito, il Salute Donaro! Grazie a tutti.